Fare un MBA al MIP ha decisamente arricchito la mia vita, l'ha arricchita sotto molti punti di vista, sicuramente professionale perché mi ha consentito di evolvermi all'interno dell'azienda che mi ha consentito di fare questo master e che mi ha promosso fino a farmi raggiungere il ruolo di amministratore delegato e mi ha arricchito moltissimo anche sotto un profilo umano perché mi ha dato modo di conoscere delle persone che per me sono state molto importanti sia durante il percorso didattico che durante la mia vita privata e personale. Abbiamo avuto tantissime amicizie che sono fiorite all'interno della nostra classe, abbiamo sviluppato amicizie con altre persone che hanno frequentato la nostra scuola e si sono sviluppate delle occasioni di lavorare insieme molto belle, molto proficue per tutti, basate sull'esperienza solida che abbiamo condiviso durante il percorso del master e che vengono continuamente questi rapporti personali e anche professionali alimentati da tutte le occasioni che il MIP e l'Associazione degli Alunni mette a disposizione di chi vuole mantenersi costantemente in contatto con persone interessanti e interessate a vivere al giorno d'oggi con una pienezza maggiore, con una consapevolezza maggiore di essere persone che possono dare qualcosa insomma alla nostro paese. Grazie.